Che il nostro amore ci tenga sempre uniti, questo l'augurio per il nuovo anno scritto dalla fidanzata di Francesco Santoro, grottagliese di 47 anni, vittima del terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 21 sulla statale 7, la Taranto Grottaglie, all'altezza dello svincolo per il quartiere Paolo VI. L'uomo ceramista, conosciuto per la sua attività a Grottaglie, patria della lavorazione della ceramica, è morto sul colpo. Era la guida della sua Toyota Yaris, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'altra auto che giungeva dalla direzione opposta. A nulla sono valsi i soccorsi per lui, è andata meglio invece per altre due persone coinvolte nell'infortunio. Finita in ospedale, sono fuori pericolo. Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia stradale, in via di definizione alla dinamica, una notte di capodanno che segnerà per sempre la vita dei familiari di Francesco e della sua fidanzata Mary. Francesco era laureato in scienze della comunicazione, aveva la passione dell'arte e della ceramica. Sulla sua bacheca Facebook, invece degli auguri per il nuovo anno, restano gli addi di chi lo conosceva. E alle prime luce del giorno, un altro incidente stradale è avvenuto a Taranto, lungo la strada che costeggia la ringhiera della città vecchia. Un uomo ha perso il controllo dell'auto finendo sulla ringhiera. Sul posto la polizia, che ha confermato la causa dell'incidente. L'uomo aveva alzato troppo il gomito e ora è in ospedale in gravi condizioni e lotta tra la vita e la morte.